Ciao Bruno. Ciao Anguana. Lui, lui è Domenico, il figlio di Sief. Un altro Sief? Non ne bastava uno? Stasera ci fermiamo qua a dormire. Ho perso due capre. Il capretto l'ho trovato, ma la madre niente. Beh, tre ore sono stato in giro. Magari è resta all'osso. Le bestie erano agitate tutto il giorno. Se è così, addio capra. Sono ancora tutti giù in paese che aspettano. Non hanno mica il coraggio di portare su le vacche al pascolo, sti vigliacchi. Ascolta Bruno, stiamo cercando suo padre. L'hai visto qua intorno? Eh, sono giorni che non vedo l'anima viva. Un goccio? Non bevo. Peggio per te. Un altro signore ha detto, dar da bere agli assettati.